Ciao a tutti, in questo video voglio fare un riassunto in 20 punti del DCPM della fase 2 e in questo video ti spiegherò quali sono le regole fondamentali di questo DCPM fase 2 in 20 punti in modo tale che tu possa essere certo di cosa fare prima però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Crescita Personale con Massimo Terramasco nel quale ti posto il link qua sotto, un canale a cui tengo molto che ti potrà dare un grande contributo nella crescita personale e ti ricordo inoltre l'appuntamento col mio seminario online martedì 5 maggio dalle 20.30 alle 23 per partecipare devi andare sul canale Felicità Benessere, cliccare su Abbonati e selezionare Seminari Online ma veniamo dunque al tema 20 chiarissime regole su questo DCPM in modo tale che tutti possano sapere cosa fare allora punto 1 fondamentale non puoi uscire di casa per nessun motivo ma se devi allora puoi punto 2 tutti i negozi saranno chiusi eccetto quelli che saranno aperti terzo punto non dovresti andare negli ospedali a meno che tu non debba andarci anche dal medico non ci puoi andare purché tu non sia eccessivamente malato allora ci puoi andare punto 4 quando esci ricorda l'autocertificazione di portare l'autocertificazione che è illegale ma obbligatoria se non ce l'hai però non è un problema perché tanto te ne verrà fornita una al momento del controllo punto 5 le mascherine sono inutili però indossarne una può salvarti la vita punto 6 i guanti non ti aiuteranno ma comunque ti potranno aiutare punto 7 questo virus se ne andrà in estate ma forse resterà per sempre non ha ancora deciso cosa fare punto 8 dovremmo rimanere rinchiusi fino a quando non raggiungeremo l'immunità di gregge che vuol dire contagiarci tutti ma restando rinchiusi punto 9 stanno preparando il vaccino per dotarci degli anticorpi per un virus che muta e che forse non genera anticorpi nel frattempo chi è guarito non può ammalarsi nuovamente o forse sì punto 10 il virus non ha effetto sui bambini tranne quelli che colpisce punto 11 gli animali ce l'hanno trasmesso ma non si possono infettare eccetto un gatto che è risultato positivo in belgio a febbraio perché non aveva letto l'ordinanza punto 12 avrai molti sintomi quando sei malato però puoi anche ammalarti senza sintomi puoi anche avere sintomi senza stare male o essere contagioso senza avere sintomi a discrezione del malato 13 per non ammalarsi bisogna mangiare sano e fare esercizio fisico una bella corsa di 10 chilometri in un appartamento di 60 metri quadri è tonificante e sviluppa la fantasia punto 14 è meglio prendere un po d'aria fresca ma se non hai giardino al balcone lascia perdere punto 15 puoi farti consegnare del cibo del ristorante a casa che però potrebbe essere preparato stato preparato da persone che non indossavano mascher o guanti quindi ti conviene far decontaminare il cibo tenendolo fuori per tre ore se non hai il cane che se lo mangia punto 16 il virus rimane attivo su diverse superfici per due ore no 4 ore no 6 ore beh chi offre di più vediamo il virus si diffonde nell'aria punto 17 il virus si diffonde nell'aria per un metro a volte due ma se c'è vento forse di più punto 18 hai l'obbligo di restare chiuso in casa con i tuoi familiari ma non devi assolutamente farti trovare chiuso in macchina con i tuoi familiari poi qua c'è il punto 18 bis hai l'obbligo di restare chiuso in casa con i tuoi familiari ma non nella casa di campagna punto 19 non abbiamo cure tranne un medicinale contro i reumatismi ed uno contro il colera come vedete la scienza sta facendo passi da gigante e per finire punto 20 questo virus è mortale ma non troppo tranne che a volte può portare ad un disastro globale in italia ha già fatto molte vittime ma forse meno degli anni passati e comunque se stai in una casa di riposo scappa e comunque alla fine non ti preoccupare vedrai vedrai che andrà tutto bene bene quindi abbiamo chiarito finalmente il dcpm il nuovo dcpm e per cui iscriviti al canale seguimi sulla pagina instagram massimo tramasco iscriviti al nuovo canale ciao a tutti